Domenica di Pentecoste Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti E io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito Perché rimanga con voi per sempre Lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere Perché non lo vede e non lo conosce Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi Non vi lascerò orfani, verrò da voi Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più Voi invece mi vedrete Perché io vivo e voi vivrete In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio E voi in me E io in voi Parola del Signore Miei cari, con la solennità di Pentecoste Termina il secondo ciclo dell'anno liturgico 2008-2009 Il ciclo della Pasqua Che ha fatto seguito al ciclo del Natale Ora inizierà la terza tappa del cammino Che durerà fino a metà novembre Quando inizierà il nuovo anno liturgico Con l'Avvento Nel Natale abbiamo ricordato e rivissuto Il mistero della incarnazione del Figlio di Dio Nella Pasqua abbiamo celebrato la morte e la risurrezione di Gesù Fino alla venuta dello Spirito Santo Nel tempo dopo la Pentecoste Assisteremo all'azione concreta Che lo Spirito Santo svolge nella Chiesa La festa della Pentecoste Era una festa ebraica Che si celebrava cinquanta giorni dopo la Pasqua Ed era motivata dal ringraziamento a Dio Per il dono del raccolto In seguito gli ebrei avevano inteso ricordare anche L'alleanza stipulata con Dio sul monte Sinai Avvenuta una cinquantina di giorni dopo la liberazione Dalla schiavitù dell'Egitto Per l'occasione Ritornavano a Gerusalemme tutti gli ebrei della diaspora Per sfezzeggiare insieme l'evento Un po' come avviene da noi in certe sagre del paese Quando tutti i nativi rientrano per la festa Anche dai paesi lontani Con la venuta di Gesù La festa di Pentecoste cambia significato E ricorda l'effusione dello Spirito Santo Avvenuto cinquanta giorni dopo la risurrezione di Gesù La scena è descritta con dovizia di particolari Nel Libro degli Atti degli Apostoli Al capitolo secondo Prima lettura Ed è molto simile quanto alla scenografia Alle grandi manifestazioni di Dio nell'Antico Testamento Come quella a Mosè sul Monte Sinai Avvenuta tra tuoni, lampi, folate di vento Segni che indicano l'onnipotenza di Dio In più nella Pentecoste cristiana c'è un particolare Apparvero loro lingue come di fuoco Che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro E tutti furono colmati di Spirito Santo E cominciarono a parlare in altre lingue Nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi Il fuoco è il simbolo dell'amore E quelle fiammelle scese sul capo E soprattutto nel cuore degli Apostoli e di Maria Stanno ad indicare che in quel momento Gli Apostoli hanno sperimentato La pienezza dell'amore di Dio Quando sulla croce il venerdì santo Gesù emise lo Spirito Non significa che emise l'ultimo respiro o sospiro Ma che dava tutta la sua anima Tutto il suo amore per gli uomini Che immedesimava con sé stesso Quando un papà e una mamma Hanno amato generosamente i loro figli Ti dici che quei genitori Hanno dato l'anima per i figli Ossia tutto loro stessi Così si può dire Che lo Spirito Santo è l'anima di Gesù E tutto il suo amore per noi Fatto persona La terza persona della Santissima Trinità Non bisogna mai dimenticare Che il nostro Dio Il Dio dei cristiani Non è un Dio qualsiasi Come per le altre religioni Ma è un solo Dio in tre persone Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo È la verità che la Chiesa Ci farà ricordare domenica prossima Celebrando la festa della Santissima Trinità Domenica scorsa abbiamo celebrato La festa della Ascensione di Gesù al cielo Ma prima di lasciare la terra Gesù aveva fatto una promessa Ricordata dal Vangelo di Giovanni di oggi Io pregherò il Padre Ed egli vi darà un altro Paraclito Perché rimanga con voi per sempre Lo Spirito di verità Che il mondo non può ricevere Perché non lo vede E non lo conosce La parola Paraclito Significa difensore Avvocato Consolatore Uno che sta dalla parte nostra Per intercedere per noi presso il Padre Più avanti Gesù dirà agli Apostoli E a noi tutti Non vi lascerò orfani Verrò da voi Ancora un poco il mondo non mi vedrà più Voi invece mi vedrete Perché io vivo E voi vivrete Lo Spirito Santo È Dio Che vive in sé stesso E vive in ciascuno di noi Che crediamo in Dio La nostra persona Corpo e anima Diventa Il Tempio di Dio La cattedrale In cui abita lo Spirito Lo Spirito Santo Che vive in noi Ci insegna E ci aiuta Ad amare Dio e il prossimo Come ha amato Gesù Da soli Con le sole nostre forze Non saremmo capaci Di amare Come ci ha insegnato Gesù Perché l'egoismo È radicato in noi Ed ha il sopravvento Ma con l'aiuto Dello Spirito Santo Diventa possibile Amare non solo gli amici Ma perfino i nemici Da questa verità Derivano tre conseguenze Prima Prima Che non siamo mai soli Dio è sempre con noi È sempre dentro di noi Secondo Dobbiamo avere rispetto Della nostra persona Corpo e anima Perché sono una cosa sacra Sono il Tempio di Dio Terzo Bisogna dialogare sempre Con lo Spirito Santo Ossia pregarlo Invocarlo Perché da Lui dipende La nostra santificazione Nessuno può dire Gesù è Signore Se non sotto l'azione Dello Spirito Santo Dice San Paolo Lo Spirito Santo Non è presente Solo in ciascuno di noi Ma in tutti i credenti In tutti i battezzati Che formano la sua famiglia Ossia La Chiesa La Chiesa Non è una società Una organizzazione umana Terrena Ma è una famiglia Che ha per legge L'unità E l'amore Il successo della Chiesa In questi venti secoli Dal giorno di Pentecoste in poi Non è dovuto agli uomini Che l'hanno composta O che la compongono Ma dalla presenza Dello Spirito Santo Che è la anima E la guida Verso la salvezza Attraverso il suo rappresentante Visibile Il Papa La storia ci ricorda Che sono esistite Tante civiltà La greca La romana L'egiziana Ma tutte sono finite Nel nulla Solo la civiltà cristiana È sempre giovane Sempre nuova Sempre promettente Perché non è animata Da uomini Ma da Dio stesso Per questo il Papa Quando parla di fede E di morale È infallibile Perché è assistita Dallo Spirito Santo Che è lo Spirito di verità Ne deriva un senso Di fiducia E di orgoglio Di appartenere Di appartenere Alla Chiesa Cattolica Perché ci dà La sicurezza Di essere Sulla strada giusta Che non fallirà La meta Oggi vogliamo fare Una preghiera particolare Per il Papa Perché lo Spirito Santo Lo illumini Lo conforti E gli dia Energie fisiche E spirituali Per assolvere Il gravoso compito Che lo Spirito Santo Gli ha affidato Quello di guidare La Chiesa universale Conclusione Non possiamo concludere La riflessione Sullo Spirito Santo Senza ricordare Il suo capolavoro Che è Maria La piena di grazia Ossia La piena di Spirito Santo Oggi È l'ultimo giorno di maggio Il mese della Madonna Oggi è anche la festa Della visitazione di Maria Salutata dalla cugina Elisabetta Come la donna Piena di fede Beata te Che hai creduto Nell'adempimento Delle parole del Signore Passano le feste Terminano i mesi Dedicati alla Madonna Ma non deve terminare La nostra devozione Alla Madonna Anzi deve rafforzarsi E manifestarsi Soprattutto con la preghiera Questa quotidiana Del Santo Rosario Desidero concludere Con le parole di un santo Dell'undicesimo secolo Devotissimo della Madonna San Bernardo di Chiara Valle Diceva Nei pericoli Nelle angustie Nel dubbio Pensa a Maria Chiama Maria Non si allontani Dalla bocca Non si allontani Dal cuore E per ottenere L'aiuto Della sua preghiera Non tralasciare De imitarne La vita Se vai dietro a lei Non devierai Se la pregherai Non dispererai Se pensi a lei Non potrai sbagliare Se lei ti guida Non cadi Se ti protegge Non puoi aver paura Sotto la sua guida Non sentirai la fatica Con il suo aiuto Arriverai alla meta E potrai sperimentare In te stesso Quando giustamente Si dica E il nome della Vergine Era Maria